Continuano a ritmo serrato le indagini sul deragliamento di Pioltello del treno Cremona-Milano e con le indagini emergono purtroppo nuovi particolari agghiaccianti. È stato rinvenuto un altro giunto gravemente danneggiato lungo il binario in condizioni simili a quello che ha provocato l'incidente. Come ovvio anche questo tratto di rotaia è stato sequestrato dalla Procura di Milano. La nuova rottura è stata evidenziata a poche centinaia di metri dalla prima. Intanto gli operai hanno completato le operazioni di rimozione dei binari incriminati. 6 metri di ferrovia che sono stati portati in un hangar per essere esaminati approfonditamente. Le indagini sono ancora in corso ma è chiaro che il quadro generale parla già evidentemente di scarsa manutenzione. Una vergogna tutta italiana.